dal vangelo secondo giovanni il primo giorno della settimana maria di magdala si recò al sepolcro di mattino quando era ancora buio e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro corse allora e andò da simon pietro e dall'altro discepolo quello che gesù amava e disse loro hanno portato via il signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro correvano insieme tutti e due ma l'altro discepolo corse più veloce di pietro e giunse per primo al sepolcro si chinò vide i teli posati là ma non entrò giunse intanto anche simon pietro e lo seguiva ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là e il sudario che era stato sul suo capo non posato là con i teli ma avvolto in un luogo a parte allora entrò anche l'altro discepolo che era giunto per primo al sepolcro e vide e credette infatti non avevano ancora compreso la scrittura che cioè egli doveva risorgere dai morti parola del signore in questa domenica di pasqua siamo invitati a correre a correre anche se forse abbiamo qualche chilo in troppo ma ne vale ne vale la pena a correre con maria di magdala a correre con pietro il discepolo amato infatti il vangelo di giovanni che abbiamo appena ascoltato che ascolteremo meglio in questa domenica di pasqua ci narra della visita che maria di magdala quando era ancora buio fa al sepolcro non ci viene detto il motivo di questa visita ma possiamo pensare che fosse una visita di affetto di di riconoscenza di gratitudine non si dice che porta con sé oli aromatici quindi è una visita che maria di magdala fa quando è ormai era quando è ancora buio proprio per mostrare quell'amore quell'affetto quella vicinanza che sempre ha manifestato nei confronti del signore quando arriva al sepolcro trova che la pietra è stata ribaltata e subito si mette a correre corre corre da pietro e dal discepolo e dalla sua interpretazione del fatto hanno portato via il signor il corpo del signore è avvenuto un trafugamento quindi questa lettura una lettura diciamo così molto umana egli ha visto la pietra rotolata dal sepolcro e appesato appunto al trafugamento del corpo del signore questa corsa di maria di magdala mette in atto un'altra corsa quella dei di pietro e del discepolo amato come ho detto altre volte non c'è dato di sapere perché l'evangelista non ce lo dice evidentemente quali siano stati i sentimenti di pietro e dell'altro discepolo che corrono verso un sepolcro che cosa sia avvenuto nel loro cuore che cosa pensavano quali sentimenti quali pensieri si manifestavano nei loro cuori certo il discepolo amato arriva prima al sepolcro ma lascia diciamo così che sia pietro ad entrare c'è un dettaglio interessante nel testo giovanneo si dice che pur essendo arrivato primo si chinò discepolo amato vide i teli posati là ma non entrò poi successivamente quando arriva pietro si dice che entrò nel sepolcro osservò i teli posati là e sudario che era stato sul suo capo non posato là con i teli ma avvolto in un luogo a parte si insiste su questi veli su questo sudario posto da una parte dall'altra e questo richiama un episodio famoso l'ultimo meglio grande segno compiuto da gesù a betania quando lazzaro esce dal sepolcro vi ricordate che viene esortato coloro vengono esortati coloro che sono lì presenti a scioglierlo dai veli che ancora avvolgono il suo corpo perché quello di lazzaro non è tanto una resurrezione ma un essere richiamato in vita qui invece abbiamo qualcosa di completamente nuovo c'è una novità perché lazzaro evidentemente è ritornato in vita ma è poi anche lui morto definitivamente se così possiamo dire ma quel evento diventa una profezia di quest'unico e irripetibile evento il sudario i teli sono posati da una parte ma il signore non c'è non c'è e l'evangelista giovanni si dice che anche quando entrò l'altro discepolo che era giunto per prima per primo al sepolcro vide e credette l'espressione forse sarebbe vide e incominciò a credere l'evangelista giovanni collega il tema della fede al vedere e quando leggeremo tutto il capitolo 20 le apparizioni del signore risorto vediamo come c'è una progressione della fede legata ad una visione a un vedere sempre più profondo perché c'è un vedere molto diciamo epidermico esterno che legge il sepolcro vuoto come un trafugamento come un essere portato via nel corpo del signore ma progressivamente ci sarà un vedere che vede il signore risorto che si vedere che appare ai discepoli ma questo nel testo odierno è associato alla scrittura infatti non avevano ancora compreso la scrittura che cioè egli doveva risorgere dai morti possiamo dire che quando siamo tentati di leggere quel sepolcro semplicemente vuoto come un trafugamento ci viene in soccorso in realtà la parola di dio quella parola di dio la memoria meglio della parola di dio che ci fa leggere invece quel sepolcro come quell'evento che ha cambiato radicalmente la condizione dell'uomo perché il signore è risorto vengono in mente le parole meravigliose che abbiamo ascoltato nel capitolo 11 del vangelo di giovanni quando a marta che lo rimprovera se tu fossi stato qui mio fratello non sarebbe morto gesù le risponde io sono la resurrezione e la vita chi crede in me anche se muore vivrà chiunque vive crede in me non morirà in eterno credi tu questo ecco la domanda che gesù rivolge a marta ma questa domanda rimbalza da betania fino a reggio emilia credi tu questo questa è la domanda la vera domanda che gesù rivolge a ciascuno di noi perché se noi crediamo questo allora la nostra vita cambia completamente la qualità attuale della nostra vita cambia perché non siamo più in cammino verso un sepolcro non siamo più in cammino verso un cimitero ma per usare un'espressione dell'apocalisse noi siamo in cammino verso la gerusalemme celeste e vi ricordate che l'evangelista giovanni ci narra di questa gerusalemme celeste nella quale c'è una moltitudine immensa di fratelli e sorelle di qualunque popolo appartengono ogni lingua razza popolo insomma è una molteplicità una sovrabbondanza il piano superiore è un piano diremo così intensamente affollato e questo cambia perché non siamo più in cammino verso una tomba verso una fine ma verso un compimento l'apostolo paolo nella seconda lettura ci dice che se siamo risorti con cristo la nostra vita è nascosta in dio e in lui e incominciamo a pensare alle cose di lassù cioè abbiamo e assumiamo l'animo del pellegrino siamo in pellegrinaggio e anche quando pensiamo ai nostri cari che ci hanno preceduto non dobbiamo pensare a loro come dei defunti ma come i viventi di prima classe al quale è stato tolto il velo e per usare sempre un'espressione di giovanni nella sua prima lettera vedono dio così come egli è carissimi fratelli e sorelle augurarsi buona pasqua significa rinnovare la nostra fede e quindi anche la nostra speranza perché la fede è il fondamento delle cose che si sperano allora augurare buona pasqua significa anche in questi tempi così difficili che stiamo vivendo essere degli uomini e delle donne intrise di questa consolazione di quella consolazione che ci portiamo dentro anche nei momenti più difficili che attraversano le nostre famiglie la nostra la nostra vita delle nostre delle nostre città sapere essere portatori di questa certezza che come ci dice la liturgia dai tuoi fedeli signore la vita non è tolta ma trasformata siamo in cammino in cammino non verso coviolo tanto per intenderci ma verso la gerusalemme celeste cari fratelli e sorelle della nostra diocesi auguri di buona pasqua di resurrezione grazie a tutti